I Balcani tra il Mar Adriatico a ovest e il Mar Nero a est. La regione comprende Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Albania e Bulgaria, stati nati in gran parte dalla dissoluzione della Jugoslavia. Il territorio è in gran parte montuoso. A ovest si trovano le Alpi Giulie, seguite dall'altopiano del Carso. Ti ricordi che cos'è il carsismo? Parallela alla costa accorre una lunga fascia di montagne. Le più importanti sono le Alpi di Nariche. Più all'interno, verso il Mar Nero, si estende la catena dei Balcani. La regione è attraversata da numerosi affluenti del Danubio, Drava, Sava, Tibisco. Tra gli altri fiumi ricordiamo Lisonzo, che nasce in Slovenia per poi scorrere in Italia. I laghi sono numerosi ma piccoli. I principali sono quello di Ocrida e di Scutari. Le coste adriatiche sono alte e rocciose, fronteggiate da numerosissime isole e interrotte a nord dalla penisola dell'Istria. Lungo i rilievi, il clima è alpino. Nell'entroterra è continentale, con estati calde e inverni nevosi. La costa è caratterizzata da un clima mediterraneo. La costa è caratterizzata da un clima mediterraneo.